Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. E credo che il privato faccia quasi sempre bene il proprio lavoro. Quindi se tu mi dici, questa è una posizione di principio basata sull'esperienza storica, internazionale e italiana. Perdonami, ma questa non riesco a tenermela, mi perdonerai, ma il pubblico è quello dei medici che ci hanno salvato la vita durante il Covid, non era il privato. Noi abbiamo passato il pubblico di medici e infermieri che hanno lavorato 24 ore al giorno per obviare anche le mancanze di organico e di dispositivi che non hanno lavorato durante il Covid. Perché i privati non hanno lavorato durante il Covid. Solo per smentire questa cosa del pubblico che fa schifo, il privato che c'è, perché francamente non si può sentire.